L'AMAT o Chima Mobilità, così come è stata ribattezzata, è una società partecipata del comune di Taranto. È un braccio operativo dell'amministrazione comunale, quindi quelle che sono le disfunzioni, i disservizi dell'AMAT sono le disfunzioni dell'amministrazione comunale perché il presidente dell'AMAT, il CDA dell'AMAT sono di competenza, la nomina di questi soggetti sono di competenza del sindaco e quindi dell'amministrazione comunale. Siamo in giro per la città, in particolar modo siamo al quartiere Salinella e così, perché voglio confrontarmi da candidato sindaco oggi e da sindaco domani con le esigenze del territorio, ascoltare la viva voce dei cittadini, non come il sindaco Melucci che era rinchiuso a Palazzo di Città e in questi 4 anni e mezzo di fallimento amministrativo ha perso il contatto con i cittadini. E qui siamo in via Lago Maggiore, proprio accanto a una delle fermate dei bus a poche centinaia di metri dallo stadio e i cittadini hanno segnalato i ritardi, soprattutto nelle prime ore del mattino dell'8, del numero 8. Una situazione davvero assurda perché poi si chiede al cittadino di usare come giusto che sia i mezzi pubblici, una scelta ambientale e poi questi ritardi continui fanno sì che il cittadino prenda altre strade e non usi più i mezzi pubblici. Un dei ritardi davvero incredibili e con riferimento a questi disservizi ascoltiamo la viva voce, la testimonianza di un abitante della zona, di una cittadina che per ragioni di riservatezza, di privacy ci ha chiesto cortesemente di non essere inquadrata, di non essere ripresa, ma le sue parole sono molto ma molto significative. Allora noi abbiamo anche il problema dell'AMAT che praticamente gli autobus, la linea 8 perché è unica che passa qui dal rione Salinella, ci dà problemi per portare i bambini a scuola. Noi davanti alle fermate del Pulma arriviamo alle 7.25, però il Pulma passa alle 8.00-5, alle 8.00-3. C'è una mezz'oretta almeno di attesa. Una mezz'oretta, quindi i ragazzi, i bambini fanno tardi a entrare a scuola, questa è questione di sempre. Continui ritardi. Continui ritardi, come ad esempio i bambini escono da scuola, che la scuola comunque è ubicata a Taranto 2 e non c'è neanche un servizio bus per le scuole, se i bambini escono alle 2.00, arrivano a casa alle 2.20, 2.25, 2.30 quando passa il Pulma. Quindi ci sono delle giornate di pioggia, delle giornate di freddo che i ragazzi, i bambini anche piccoli, devono aspettare sia per andare che per ritornare a casa una mezz'oretta abbondante. Signora avete fatto sicuramente segnalazioni, ma evidentemente i risultati sono nulli. Ci sono state tante segnalazioni, perché non è il primo anno, ci sono state tante segnalazioni, ma con i risultati completamente zero. Quanto dichiarato dalla signora è evidente, è più eloquente di ogni mio commento. Certo che fa rabbia vedere l'ipocrisia politica di Melucci, il quale parlava e parla di ecosistema Taranto, di svolta green, di scelte ambientali. Melucci che esalta la mobilità urbana con una svolta ecologica, con una svolta green. E poi i bus che dovrebbero essere l'alternativa alle macchine, che presentano dei ritardi inaccettabili, inammissibili e incomprensibili. C'è una Taranto diversa che vogliamo disegnare, vogliamo scrivere insieme. Sono 20 anni che faccio battaglie giornalistiche e ora mi sono rotto davvero le scatole. Voglio cambiare insieme a voi, mettendoci la faccia, come ho sempre fatto da 20 anni a questa parte. Grazie a tutti.